allora eccoci cominciamo con una breve presentazione organizzato questa chiamata per fare alcuni punti della situazione praticamente con il progetto cicatrice baci e questa nuova fase che va verso la trasformazione della prima parte del progetto in un libro chi ha partecipato al progetto cicatrice baci ha partecipato un progetto che crea ritratti di processi di guarigione e quindi io ho ricevuto delle storie personali che non sono state divulgate e su cui abbiamo fatto un lavoro assieme che ha dato come risultato tre collage sono collage che rappresentano dei processi di guarigione in pratica tutta la prima parte trasforma quello che è scritto e quindi le parole quello che ci si racconta e si vuole raccontare in qualcosa che non ha più non è più verbale diciamo tutta l'attenzione della prima parte del progetto va verso il togliere quello che è verbale e quindi si occupa soprattutto di quello che non è detto di quello che soprattutto è sentito e quindi abbiamo un esploiare finale in qualcosa di specificatamente visivo questo è una prima parte di narrazione ma quello che è l'immagine in sé è come se continuasse a parlare e anche le persone stesse che hanno partecipato più persone hanno espresso il desiderio di raccontare la loro storia e da questo e dall'esigenza anche di esprimere raccontare quello che quello che è un'impressione anche da parte del pubblico ho sentito questa esigenza di avere di nuovo delle parole è qualcosa che è molto interessante anche se è molto interessante farla con una certa distanza da quello che è il solo visivo perché ecco anche il solo visivo trovo che vada sperimentato si potrebbe dire non proprio sperimentato ma vissuto sentito ecco diciamo ritardare la parola ritardare di rimettere una parola su queste immagini visuali trovo che sia comunque un passaggio necessario ecco quindi senza fretta e comunque diciamo che quello che va a succedere adesso è che rimetteremo rimettendo delle parole rinarrando la storia si narra una storia che già è stata elaborata e quindi non è più la storia di prima di fatto quello che era prima io l'ho cancellato e quindi chiedo a chi ha partecipato a cicatrici baci di narrarmi qualcosa di nuovo potrebbe essere anche che qualcuno vuole narrare la vera storia potrebbe essere che qualcuno vuole narrare una poesia può andare completamente in una strazione non è importante per me però apro questo nuovo canale che è un canale di espressione di fatto in questo modo torno anche all'origine del progetto che voleva essere un contenitore più vasto di validazione di espressione di quello che sono questi processi di guarigione ok questo per quanto riguarda quello che è il concetto della narrazione che che vogliamo intraprendere con cicatrici e baci quindi sorgono delle questioni tecniche come raccontare queste immagini ci si può raccontare se la persona che intrapreso il processo è interessata a raccontarsi ma non è una forzatura quindi si può anche decidere di donare la propria storia ad un narratore una storia visiva niente di personale io comunque ci tengo a mantenere il contatto con chi ha partecipato affinché non venga come una sorpresa diciamo ecco è molto interessante che anche se la persona decide di non narrarsi di non andare avanti possa essere tenuta al corrente e consapevole di quello che viene fatto o scritto sopra la sua storia quindi un po' anche per questo che volevo organizzare questa questa call in inglese e poi per passare ai fatti pratici le esigenze di pubblicare un libro cartaceo sono di mettere in moto un processo abbastanza impegnativo quindi come primo passo l'opzione è andata verso un libro digitale che come un po' tutto il progetto cicatrice baci si sviluppa all'interno della dello spazio della cripto e quindi si apre già un opzione interessante diversa un po' più lunga da elaborare e che sarebbe interessante poi discutere di fatto è l'opzione che noi abbiamo pronta c'è una piattaforma dove si può tranquillamente senza eccessivi costi pubblicare quello che sono le immagini quello che sono i testi quello che ha un eventuale audio e quando si pubblica nel nel in questo senso su una block chain si possono definire gli autori le relative royalties come si suol dire e quindi un corrispettivo che viene poi ripagato indietro agli autori e in questo caso io considero autori anche le persone che hanno partecipato al progetto e quindi in questo senso la scelta per ora più attuabile è questa ma si apre anche una bellissima strada grazie anche poi all'incontro col progetto cosmia e narrandom che tra un attimo affrontiamo con con francesca e che ovviamente questo non vuol dire che non andremo verso qualcosa di cartaceo e di più concreto ma probabilmente ci vorrà un po più di tempo attualmente ho ricevuto già diverse storie diverse persone si sono fatte avanti hanno mandato il loro scritto e insomma ci terremo aggiornati in questo senso quello che è successo è che questa questo quanto tempo fa francesca non so mi sembra pochissimo in fondo diciamo si è si è aperto questo canale di proposta di progetti e sono venute a concludersi dei cicli per cui l'idea di adesso vi farò presentare da francesca cosmia che forse è meglio se no mi mi perdo un attimo però quello che volevo dire è che questa esigenza di completare una narrativa mantenendo comunque la narrativa aperta che si potrebbe dire una narrativa continua ha fatto confluire i nostri progetti e quindi apre nuove possibilità nuove nuovi medium anche possono partecipare a quello che è una narrazione soprattutto di questi tempi dove andando verso il digitale credo che si sia perso per un attimo quel qualcosa che nel live diciamo nella vita reale è qualcosa di concreto che può essere insomma la presenza la vibrazione del suono insomma tante cose si è come se ritornassero in qualche modo trovo in una nuova composizione nel digitale senza scordare il resto se voglia fra di dare una piccola breve presentazione così poi ricuciamo tutto praticamente quello che la blockchain l'ambiente cripto come si vuol chiamare perché ormai anche i termini continuano un po a cambiare è che c'è una una forma di ci sono dei valori non in tutto ma in alcune parti che trovo molto importanti che sono appunto la decentralizzazione che è un po il ritorno a quello che è un essere il centro quindi fondamentalmente noi come persone come creatori o come persone che agiscono siamo di nuovo riportate nel nostro centro e questo è molto importante perché la struttura che si è vista fino adesso e di nuovo molto ultimamente la struttura dominante è piuttosto un po piramidale se vogliamo dirlo e quindi è come se c'è sempre una cima da raggiungere mentre in qualche modo non solo noi ma veramente una cosa che si sente molto e con cui risuono molto c'è un'esigenza di ritrovare il proprio centro come tanti centri che si uniscono e quindi un altro modo di collaborare e un altro modo di essere non so è proprio diciamo che la collaborazione in questo senso è una delle cose fondamentali ma una collaborazione che non deve essere forzata e quindi una nuova valorizzazione di quello che ognuno può dare in qualche modo sento che questa è una delle componenti importanti e ci sono infatti tantissime persone impegnate a costruire una tecnologia che fondamentalmente è un regalo noi ce la troviamo pronta tante cose sono open source ci sono programmatori al lavoro in particolar modo io ho identificato come luogo per poter entrare con la nostra sperimentazione di casa editrice e di libro e libro di cicatrici e baci questa piattaforma mint base che viaggia sulla blockchain near perché ho trovato che il loro valore e quello che stavano mettendo a disposizione era uno strumento che permettesse più possibile diciamo la riappropriazione di quello che è il tuo lavoro il tuo contributo io non sono programmatrice quindi di fatto faccio uso di qualcosa che mi viene dato però c'è veramente una forma di collaborazione molto alta di fatto il tuo lavoro di fatto il tuo lavoro è associato a un fondo di dando dei fondi ai progetti sono fondi in criptovaluta sono fondi che diciamo il cui valore costruiamo noi assieme ma c'è veramente un sostegno e una voglia di come dire di valorizzarsi possiamo così dire no di collaborare e di non non mettersi i bastoni tra le ruote si può anche proprio dire perché voglio dire adesso io non so però diciamo che ognuno di noi porta delle proprie esperienze però quello che quello che ho sentito lì è questo sostegno quello che si sostiene è che ognuno prenda l'iniziativa la responsabilità e quindi è molto liberatorio anche come esperienza diciamo il valore lo creiamo assieme stiamo parlando anche di valute che in fondo potrebbero essere considerate i soldi del monopoli non c'è nessun tipo di sicurezza però d'altronde c'è il fatto che noi la possiamo costruire noi possiamo costruire questa questo valore lo diamo noi lo costruiamo noi decidiamo noi come usarlo come come crearlo è già è sicuramente un po vago anche questo difficile veramente approfondire andare in dettaglio abbiamo paola che arriva ora eccoci benvenuta non ti sentiamo sai il microfono in muto e grazie di esserti connessa anche in questa situazione di viaggio come si può intuire ok stai venendo a trovarmi perfetto ma benissimo lo stesso io ti accolgo la sono a casa abbiamo fatto un breve riassunto riguardo al progetto e come si intende passare alla fase del libro quindi dal processo di cicatrice baci in cui si entra e dalle parole si passa a qualcosa di visivo poi come tornare a aggiungere qualcosa che è verbale ma da un nuovo stato perché comunque la prima parte è già accaduta è già successa e quindi qualcosa sicuramente può essere pochissimo può essere tantissimo qualcosa è cambiato e sempre come le storie quando si racconta una seconda volta magari qualche particolare cambia insomma ecco le opzioni sono quelle di raccontarsi con la modalità molto libera raccontare qualcosa oppure donare la storia a qualcun altro che è invece magari interessato a partecipare come scrittore o come potremmo dire verbalizzatore dell'immagine ecco e in questo è un breve riassunto eh l'idea di passare a un libro prima digitale e poi fisico e l'incontro con il progetto Cosmia e anche il Narrandom quindi di una casa editrice e di una modalità di narrazione continua che stiamo creando in questo momento quindi in fase di costruzione ci porta a sviluppare il progetto in due direzioni che sono quella di andare sulla blockchain con questo progetto magari forse più a breve perché c'è più è più agevole anche a livello economico legale o tante cose e poi comunque di sviluppare questo anche nella vita reale attraverso la casa di pubblicazione che ha creato e che insomma stiamo continuando a creare assieme perché si vuole comunque sviluppare questo in un modo collaborativo con un'unità di con le persone giuste quelle che vengono per risonanza quelle che sentono che la cosa hanno voglia di farla e senza definire una quantità di contributo fissa ma appunto stiamo aperte a sentire cosa risuona giusto? dimmi fra se ho scordato qualcosa sì anche dal lato che riguarda più la blockchain e anche quindi tutto quello che è cosiddetto cripto cripto valute insomma questo mondo che chissà se poi avrà una definizione che si ferma ma per ora diciamo così c'è anche un certo sostegno è quello che io ho potuto trovare appunto essendo partecipe da qualche mese del lancio di una nuova piattaforma dove si possono sviluppare questi contenuti multimediali vari che è molto adatta per presentare libri che non sono solo libri diciamo che non hanno solo un testo ma possono avere delle immagini possono avere dei video possono avere degli audio si possono soprattutto considerare tutte le persone che partecipano ci sono dei contratti per cui chi partecipa riceve in automatico quello che è un guadagno quindi cose che vengono definite a priori e quindi poi vengono sono solo eseguite da un da un contratto quindi anche molto interessante perché allevia diciamo che ci sono delle cose in queste delle cose bruttissime delle diciamo dei meccanismi o dei procedimenti ecco che possono essere automatizzati e tante persone stanno lavorando a questo io non sono programmatrice ma siamo in contatto come comunità e ognuno mette il suo io faccio parte dei creatori se vogliamo noi facciamo parte anche di coloro che sfruttano questa piattaforma che viene messa a disposizione e siamo tanto importanti come i sviluppatori che creano quello che c'è bisogno quindi è proprio un dialogo quindi abbiamo qualcosa per ora a disposizione e anche una comunità molto attiva dove qualsiasi cosa si può mettere in discussione qualsiasi argomento necessità si può portare e questo va al benessere di tutti perché magari il nostro progetto ha individuato per ipotesi dei dettagli che non erano stati presi in considerazione risolverlo ed aiuto a noi ed aiuto a tutti e questo è un po quello che che offre diciamo la parte della blockchain che ho individuato come attualmente la più adatta al nostro alla nostra sperimentazione perché in fondo noi stiamo parlando di sperimentazione stiamo comunque parlando di un luogo virtuale dove tutto è ancora in divenire eppure già funziona quindi diciamo è interessante bisogna essere lì lì sappiamo che il territorio non è come la parte da sviluppare nella realtà concreta dove sappiamo da anni centinaia di anni come funziona quindi abbiamo due opportunità molto interessanti avere sempre un passo è come se siamo sempre con un piedino sulla cresta dell'onda però anche tranquilli magari sulla spiaggia di quello che è l'altra parte più già concreta non so se l'esempio rende bene l'idea perché io sono cosciente che mi è molto più facile parlarne di fronte a persone che lo stanno vivendo e sicuramente francesca un po trascinata quindi una vaga idea ce l'ha però so benissimo che potrebbero essere delle indicazioni un po vaghe e quindi per quello che ci tenevo magari organizzare questo primo incontro ma può essere il primo diversi così che poi tutti possano essere messi a conoscenza e possano porre le loro domande e quindi nel rispondere sarà più facile andare nel dettaglio ecco è difficile spesso con i termini perché siamo in fase dove tante cose vengono ridiscusse e io stessa certe volte sono è difficile descrivere qualcosa che non è ancora è veramente concreto con dei termini vecchi no e quindi in effetti questo è già un concetto interessante anche la linguistica in più non vorrei dimenticare che c'è nella cripto si parla anche di abbondanza e abbondanza per tutti nel senso che il profitto deve esserci in qualche modo perché vogliamo anche che questo sia un valore e sia qualcosa che poi ci permetta di costruire anche un'economia in qualche modo e però anche in un modo diverso infatti a questo proposito cito comunque un altro progetto in fase di sviluppo perché come sappiamo a noi sembra che piacciono le cose che promettono bene ma che magari sono ancora insomma in fase di finalizzazione c'è anche questo invisible economy di dada che di fatto è una come si potrebbe chiamare una realtà perché non so dare un altro nome ma una comunità una realtà dove questa questa modalità che tu hai appena descritto di partecipazione è creata è fatta è costante e ci sono persone che stanno lavorando a sviluppare una un altro di questi cosiddetti contratti automatizzazioni dove quello che è la distribuzione di dei proventi si dice non so di guadagno quello che insomma queste cose che ci servono queste queste cose che ci servono per per trattare tra di noi umani per dare valore alle cose venga avvenga in un modo invisibile capace di dare a tutti e capace anche di considerare nel merito tantissime tantissime tipologie di partecipazione ecco che è difficile descriverla anche qua con dei termini perché è una discussione continua ma ci sono almeno due se non tre incontri a settimana in cui si discutono dettagli e anche questo lo seguo da ormai penso più di un anno e quindi cosa unisce questa comunità in questo momento a parte il fatto di trovare una modalità nuova di concepire l'economia che non faccia stare male nessuno si potrebbe quasi definire così in modo semplice è unita in questo in particolar modo da uno strumento che è stata l'origine quello che hanno creato in origine che è un semplice tool in cui tu vai online disegni quello che vuoi e qualcuno ha la possibilità di continuare la conversazione così detta conversazione tu hai il tuo quadratino come un foglietto e qualcuno arriva attacca in fondo un altro foglietto continua disegnare e così via come una striscia quello queste conversazioni apparentemente così semplici in realtà sembrano una nuova un nuovo modo di comunicare perché si è notato che questa modalità ha creato tutta una serie di ricadute di comunicazione ecco anche lì secondo me c'è questo concetto di narrazione che non finisce e tu conosci delle altre persone ma non magari senza parlarci è solo disegnato però c'è tutto beh adesso è un po per per buttarla lì perché anche qua noi siamo a dieci minuti dalla conclusione non ci sarebbe tempo per per andare in profondità però diciamo che le connessioni le relazioni e il modo di comunicare appunto trovo che si stia stia cercando delle nuove vie così gli schemi certi schemi sono risultati sono evidentemente troppo stretti sono troppo vecchi sono troppo reiterati e quindi c'è comunque voglia di costruire qualcosa di nuovo il ribadisco secondo me una delle cose fondamentali è il concetto di decentralizzazione che in realtà è un riportare ognuno nel proprio centro e quindi nella propria capacità di definire in fondo la propria esistenza se proprio vogliamo andare alla radice non so però ecco e quindi anche come relazioni delle relazioni in una rete non sono la stessa cosa che le relazioni che si strutturano in una piramide ecco mi fa anche sempre pensare molto a quello che è la permacultura questo perché è questa considerazione delle zone delle zone d'azione perché alla fine noi agiamo come un centro e attorno abbiamo un raggio d'azione e fondamentalmente così abbiamo sempre delle scambi con le persone con le cose con gli oggetti insomma comunque è molto diverso che essere in fondo acqua dentro qualcosa per cui non vedi bene dove sono i confini no punto per cui se se siamo i soli esempio di una città avere la visione di tutta la città è difficile comunque il tuo quartiere resta importante dove tu vai quindi penso che in qualche modo questo concetto è molto interessante e dove anche in permaculture dove praticamente c'è l'incontro con un'altra realtà o con un altro ecosistema c'è ancora qualcosa di nuovo che è speciale perché non è replicabile cioè è sempre nell'incontro nella conversazione nella condivisione mi sembrano delle tematiche che si ripresentano è bello poter costruire qualcosa tenendo presente questi valori che sono delle strutture naturali per cui in qualche modo è come se ci volesse meno sforzo in fondo perché sforzarsi no cioè se noi riusciamo a fluire la vita come la vita in qualche modo questo può essere un gran valore perché si sta meglio no nell'idea il libro avrà anche una nuova foto questo è poi un passaggio successivo però diciamo che qualche punto di correlazione ci vuole nel senso che tu potresti non correlare con la foto però sentire l'esigenza cioè quello che tu senti adesso come esigenza da narrare in fondo è sempre collegato perché è come appunto se fosse una continua narrazione essendo che tu lo fai perché te l'ho chiesto io all'interno di cicatrici e baci già di sé da una cornice io penso che qualcuno avrà bisogno di indicazioni più specifiche e qualcuno avrà bisogno di più libertà per quello che per me la risposta è personale tu hai un'esigenza e secondo me la tua esigenza è la cosa più importante e prendi il progetto come un contenitore dove tu puoi esprimerti e poi io sono a disposizione e comunque siamo in comunicazione quella è la cosa fondamentale a mantenere la comunicazione per quello vi dico se si apre l'opportunità di pubblicare il libro cioè si è aperta di fatto c'è l'opportunità di pubblicare il libro nel mondo cripto io vi spiego come funziona e da lì decisiamo come diciamo andare avanti perché per ipotesi io ho bisogno di poco però magari avrò bisogno di mettermi d'accordo su come gestire quello che sono delle valute che non sono ancora considerate ufficiali e che sono diciamo molto oscillanti tipo un giorno sai come 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 le monete normali ma con delle oscillazioni più alte se vogliamo e quindi in qualche modo trasformare questo in una certezza di un guadagno è ancora un po difficile e stiamo elaborando già all'interno della cripto ma un pochettino e poi anche con fra definiremo un po come fare per questo all'interno di cosmia questo progetto delle nft è un esperimento così che noi in qualche modo se voi accettate semplicemente questo tipo di pubblicazione come un esperimento che quando faremo i conti a un certo punto potrebbe essere che abbia portato dei bei guadagni siamo tutti contenti però non possiamo assicurarlo a priori ecco questo è un po il concetto magari alcune persone sono talmente incuriosite che dicono voglio saperne di più mi lancio anch'io ma altre no e non c'è nessunissimo necessità ecco da quel punto di vista cioè non c'è nemmeno una fretta di capire veramente penso che da quel punto di vista super easy e poi quello che è la collaborazione in questo caso con cosmia del progetto non implica attualmente nessuna richiesta di fatto lo stiamo un po costruendo e stiamo anche sfruttando il mio e il romanzo mio e quello di fra che è bellissimo tra l'altro no non ho letto il romanzo ma il poco che ho letto secondo me sono curiosissima adesso voglio leggere tutto l'ho sentito narrato praticamente sono anche diciamo i primi e quindi ci mettiamo anche un po in gioco no così noi possiamo un po portare avanti la cosa e vedere come funziona e anche lì diventa ci vogliono i primi no giustamente perché poi bisogna magari aggiustare il tiro vedere un po come organizzare no facciamo questo come si viene viene definito use case no